All'inizio della seconda tornata di sedute di marzo, martedì pomeriggio, il Presidente della Provincia Arno, Compaccer, ha illustrato la proposta di disegno di legge costituzionale sull'adeguamento degli statuti delle regioni a statuto speciale. Obiettivo dell'iniziativa è ripristinare le competenze ridotte a seguito delle sentenze della consulta successiva alla riforma costituzionale del 2001. Di seguito sono stati nominati componenti delle quattro commissioni legislative e quelli della cosiddetta Commissione 137, la Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. È quindi iniziata la trattazione del disegno di legge provinciale della Giunta che porta variazioni al bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 ed altre disposizioni e dispone l'utilizzo di 650 milioni di entrate aggiuntive. Dopo la presentazione del proponente si è svolta la discussione generale seguita dalla replica della Giunta e dall'esame degli ordini del giorno.